Sì, Blackmagic ha calato il prezzo della Pocket 6K, la macchina con cui mi sto filmando in questo momento, a 1.800-1.900 euro e dollari, più o meno il prezzo è rimasto invariato. È fantastico, è fantastico e molti mi hanno chiesto perché. Perché? Allora, non sono un mago, non posso sapere il motivo perché Blackmagic è stata portata a fare un drop price, un calo di prezzo così importante. Anche perché, se non sbaglio, quando l'ho presa io costava su 2.7, dopo è arrivata a 2.4, 2.5 e adesso a 1.800-1.900 euro. Chissà, potrebbero essere o stanno uscendo con un'altra macchina o i competitor, se adesso in questi giorni Canon con la R5 ha dichiarato appunto che ha progettato una macchina 8K, che fa 8K RAW interni. Sony, dovrebbe uscire con la A7S III, che è anche quella, io mi auguro, sia un 8K o una 6K, perché 6K sono fantastici, io le adoro, ma sono superflui. Probabilmente preferisco un 4K su un sensore più grande, tipo tra la Blackmagic 6K e la Blackmagic 4K la differenza è il sensore e il formato che fanno. Poi dopo ci sono delle piccole sfumature che la 6K ha un pochino più di gamma dinamica, forse, mezzo stop, dicono, io non l'ho provate una di fianco all'altra, quindi non saprei dirvi. Però il sensore è un pochino più grande, è quello che mi ha fatto gola, non il 6K, perché comunque sono file enormi, ci vogliono macchine molto potenti, computer potenti per poterle poi sprodurre. Quindi, e poi se guardiamo il top, che è l'Harry, l'Harry quest'anno penso che abbia fatto la loro prima camera o l'anno scorso, che è 4K. L'Harry Classic, che hanno fatto tutti i film di Hollywood, se non sbaglio filmava due qualcosa, 2K e mezzo. Quindi, cioè, è più importante il sensore, il colore, la gamma dinamica, se l'immagine è bella fluida, piuttosto che una qualità abnorme. E quindi, così, compratela ragazzi, comprate tutti la 6K, 1800 euro, niente, niente, è una macchina della madonna, super, cambia la vita. Non è per tutti, non è per tutti. Ho fatto un'intervista con Studio Radicino su Instagram per la quarantena, abbiamo chiacchierato un po' online, e mi hanno chiesto anche lì, in direct, ci chiedevano, ma qual è la differenza tra la A7S II, che io l'ho usata per 5 anni, e la Blackmagic. Cioè, le differenze sono tantissime. La Blackmagic è una cinema camera e non è facile da usare. Toglie tutte le comodità che le mirrorless ci hanno sempre dato, con gli upgrade, tipo l'autofocus, che non lo uso, ma ogni tanto lo uso. Nel senso, non sono un amante dell'autofocus, ma quando c'è bisogno e c'è, è una cosa buona. Sensore stabilizzato, che anche quello, in molti casi, non mi piace, però quando si è a mano libera e bisogna portarsi a casa una scena è molto comodo. La A7S II è fluida, è bella, l'immagine è bella, ha un sensore molto molto bello, gli altissimi ISO, che vabbè, non si usano quasi mai. Dipende per che cosa, però io nel mio caso non è che li uso così tanto. Funziona bene l'alti ISO, anche la A7III comunque. Diciamo che sono completamente diverse, non c'è una meglio dell'altra. Però per la tipologia di lavori che sto facendo io in questo momento, la Pocket 6K, diciamo, era il compromesso perfetto. Non troppo grande, non troppo pesante, anche se quando è tutta rigata con batteria, io uso le V-Lock, è bella pesantina. Però, comunque sia, non è una cinema camera, non è un'area Alexa classic che pesa, boh, quanto peserà? 20 chili? Tutta assettata. Quindi, diciamo, non pesante e una buona qualità. È un prezzo molto ragionevole. E adesso costa 1800. E guarda, io ne vorrei comprare un'altra. Così ne ho due. Compratela, raga. Che altro? Ha le cose? Scusi, i punti, mi sono dimenticato. Beh, i punti. Uno, potrebbe essere che stanno uscendo con qualcosa di nuovo. Due, la Canon esce con l'8K e la Black, uguale comunque sia rimanere buona con i prezzo. Magari è puro che la Canon R5 8K sia attorno ai 3.000, loro erano attorno ai 2.5, però si hanno abbassato. Potrebbe essere che un mio amico tramite un messaggio mi ha chiesto, non è che ha dei difetti. No, non ha difetti. Non ha grossi difetti. Quindi non è quello. Non si può sapere. Io la comprerei. O magari, anzi, potrebbe essere che hanno abbassato il prezzo per un momento momentaneo, giusto per adesso. Quindi compratela. Compratela. Scherzo, non compratela. Non fate niente. Risparmiate i soldi, tanto non conta la qualità dell'immagine. Non conta. Ciao. Grazie. A presto.